Il comune di San D'Arsegno, guidato dal sindaco Donato Pica, ha richiesto l'attivazione di un servizio sostitutivo con autobus Trenitalia per la rete ferroviaria sicignano degli Alburni, Atena-Lucana, Lago Negro. Il progetto comprende quattro corse giornaliere, di cui due corse di minibus in coincidenza, garantita e protetta, con le due fermate dei treni intercity diretti a Roma e due corse di minibus in coincidenza con le due fermate dei treni intercity. In una nota si legge che la stazione ferroviaria, secondo il comune di San D'Arsegno, di Sicignano e degli Alburni, rappresenta uno snudo fondamentale del trasporto su ferro, una meta e un punto di riferimento importantissimo per centinaia di pendolari, che ogni giorno raggiungono i grandi centri urbani da tutto il comprensorio dell'Ovallo di Diano Tanagro, Alburni, e della Basilicata Meridionale. Nella richiesta del comune guidato dal sindaco Picca si contempla, inoltre, di affrettare i lavori presso la stazione di Sicignano e degli Alburni, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, che prevedono l'innalzamento dei marciapiedi per rendere possibile l'attivazione della fermata del Freccia Rossa 1000, finanziato dalla regione Basilicata, circolante sulla tratta Taranto-Metapunto-Potenza-Milano-Torino.